Entra in un bar di Biella e chiede in modo aggressivo che gli venga servito da bere. La barista ha esitato, visto che l'uomo già gravato da precedenti penali era in evidente stato di alterazione alcolica e lui di tutta risposta ha raggiunto la donna e l'ha minacciata di morte. L'uomo di circa 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi tratto in arresto nella tarda serata di ieri con le accuse di estorsione e porto abusivo di armi. L'uomo, già conosciuto in zona per il suo atteggiamento al limite delle regole di civile convivenza, si sarebbe presentato ancora una volta in stato di evidente ubriachezza. Alla risposta della barista, una donna di circa 34 anni, l'uomo l'avrebbe raggiunta con un balzo dietro al bancone e minacciata di morte se non l'avesse servito. L'allarme è quindi immediatamente scattato sul posto, si sono portati i carabinieri che hanno preceduto quindi all'arresto. Il 38enne è stato tradotto nel carcere di Biella in attesa di convalida.